Radio Attività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Come sappiamo, ieri è stata una giornata assolutamente decisiva per la genesi del nuovo governo giallofucsia. La situazione è intrinsecamente paradossale e così vorrei esprimerla. Da un lato abbiamo un nascente governo che sarà di fatto il governo giallofucsia a beneficio di Bruxelles e dei signori del capitale. Dall'altra abbiamo un'opposizione che nasce già intrinsecamente debole a propria volta. Perché in effetti sorge spontanea la domanda qual è il senso dell'operato di chi ieri, e merita di essere rispettato, senz'altro, è sceso in piazza. Si è votato nel 2012, poi qualcuno, ossia Matteo Salvini, ha irresponsabilmente staccato la spina ed è uscito sbattendo la porta. Dunque, qual è il senso dello scendere in piazza per protestare contro il nuovo governo? Non bastava forse non staccare la spina e rimanere nella cabina di comando a portare avanti il progetto iniziato? Il paradosso, dicevo, è che abbiamo un governo che sarà un governo contro gli italiani e contro le classi lavoratrici. Sarà un governo di maggiordomi del capitale transnazionale e eurocratico, da una parte. E dall'altra abbiamo un'opposizione che è fisiologicamente debole, perché è essa stessa responsabile di questo sciagurato governo giallofucsia. Inciosta la responsabilità, dicevo, di Matteo Salvini e della Lega per aver, inopportunamente, di più irresponsabilmente staccato la spina, consegnando le chiavi del paese ai giallofucsia. Ci troviamo di più in una condizione paradossale, vorrei dire, perché da un lato abbiamo il giallofucsia che dice, con le parole di Di Maio, che bisogna fare politiche sociali, che però non potrà mai fare nella misura in cui giura fedeltà all'Unione Europea, che è un progetto cosmopolite e liberista nato ad hoc per rendere impossibili politiche sociali. Dall'altra abbiamo il movimento verde-bluet, quello delle destre liberiste, che dice, sono parole di ieri testuali della Gelmini, di non voler fare politiche sociali, cheppure potrebbe fare mediante la sovranità che rivendica apertamente. Ed è per questa ragione che, come ho ripetuto più volte, il giallofucsia e il verde-bluet sono le due braccia del medesimo Moloch liberista. Ed è per questo, non mi stancherò di ripeterlo, che ci vuole un nuovo soggetto che sia insieme sovranista e socialista, che cioè difenda le politiche sociali mediante la sovranità nazionale. In un surreale intervento del Rio si è rivelato a tal punto Icofobo ieri, ossia spregiatore dell'Italia, che ha usato la formula quando andiamo in Europa, quasi come se l'Italia non appartenesse all'Europa e si trovasse, per dire, in Asia. A un certo punto Duva ha sostenuto in maniera incredibile che il 5 Stelle non è mai stato contro l'Europa. Davvero strana questa affermazione. Io stesso ricordo in prima persona di aver fatto negli anni decine di convegni insieme ai 5 Stelle contro l'Euro e l'Europa, ancora nel maggio del 2019. La situazione quindi è incredibilmente tragica, ma non seria, se vogliamo dire così. Tali e tante sono le contraddizioni. Il paradosso più grande è che, mediante la rottura del giallo-verde, si sono prodotte due ali, il giallo-fucsia e il verde-bluet, che sono le due facce della medesima medaglia del sistema liberista. Si ha così per i prossimi anni, temo, una alternanza senza alternativa. Quale sarà la parte che andrà al potere? Vincerà il banco liberista. Radioattività con Diego Fusaro